La situazione è che i bambini qua, ci sono bambini disabili, neanche si possono esadere. Che cosa chiedete al comune? Il comune per il fatto delle scale, passamano, ci sono dei chiodi messi là, se qualcuno cade. Chiedete di rendere questa spiaggia disponibile? Anche pure per i bambini, pure per gli anziani, perché ci sono pure anziani. Allora noi abbiamo posto l'attenzione già da qualche anno, perché la signora Orlando soffriva del servizio, dell'aiuto del signor Balistreri che portava anche sua figlia. Però come vedete qua la situazione di questa spiaggia è veramente vergognosa. Da anni abbiamo chiesto, come ha detto la signora, che si intervenga mettendo un corrimano, allungando questo corrimano, mettendo un altro corrimano dall'altra parte della strada, per agevolare idem dall'altra scalinata, così come abbiamo chiesto di provvedere a rimuovere quei chiodi in ferro che sono pericolosi, perché basta qualche persona che cada o scivoli, si può fare male. Noi abbiamo chiesto quindi che si provveda a sistemare meglio la scalinata, perché come potete notare condizione pessima, e chiediamo altresì che il Comune assecuri un servizio di trasporto per le persone disabili o per persone che non possono recarsi qui in mare, ma che hanno diritto, così come tutti gli altri, a potersi recare nelle nostre spiagge. Il Paese civile si deve riconoscere pure dall'attenzione che ha per le persone che hanno maggiore difficoltà, e appunto chiaramente coloro che sono disabili. Io e Giuseppe già dall'anno scorso abbiamo fatto tante richieste, abbiamo parlato pure con la dirigente degli affari sociali, quello che chiediamo a gran voce è un intervento tempestivo, perché con queste temperature africane è corretto che pure le persone che hanno delle problematiche possano godere di questo splendido mare.